Salve a tutti da casa del papi, lo so dai tutti, zitto, zitto, sono le 8 di mattina, zitto, guarda il piccolino che sembra un sorcetto, dove vai sorcetto? Piccolino, guarda qua, Totino, 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 ma lo sapete perché Totino sta così a prima mattina? Vieni qua tu, vieni qua, guarda quello piccolino, guarda, lo sapete perché? Perché la mami ha dato un pupazzino di Totino al piccolino, poverino, e lui vuole il suo pupazzino, Totino, questa adesso è del piccolino, non è più il tuo, dai, basta, tu ce l'hai, 397 mila, vabbè, comunque noi a prima mattina a casa del papi stiamo così, buon weekend a tutti, va bene? Che vuoi il pupazzetto? Il pupazzetto lo vuoi? La pallina? Niente, niente, è arrabbiatissimo Totino, questo è il nostro sabato mattina